La palestra estetica è un modo per le donne per mettere su muscolo velocemente, perdere grasso e migliorare proprio l'aspetto della propria pelle. Mi sono fatto aiutare da Giorgia De Viti su una personal trainer preparatissima in questo ambito. Ci concentreremo su donne che tendono ad accumulare adipe e ritenzione nella parte bassa del corpo e soffrono di cattiva circolazione. Degli esercizi che ti dirò devi seguire l'ordine riportato, inoltre per assicurarti di fare il giusto sforzo, quando arrivi all'ultima ripetizione di ogni serie devi quasi sentire di non riuscire a farla. Ma realmente, caspio, non fingere! Lunedì, tre serie da 12 ripetizioni di squat con il bilanciere oppure al multipower. Poi stesse ripetizioni per la lat machine, poi affondi in camminata, quattro serie da 40 ripetizioni l'una. Infine termina con piegamenti sulle braccia a corpo libero, almeno tre serie da 10 ripetizioni l'una. Mercoledì, tre serie da 12 ripetizioni di stacchi rumeni, poi stessa cosa per rematore e manubri, poi stessa cosa per gli affondi bulgari. Infine termina con tre serie da 12 ripetizioni di alzate laterali seduta sulla panca. Venerdì, tre serie da 12 ripetizioni di squat sumo al multipower. Poi stessa cosa per spinte spalla su panca oppure puoi usare anche il macchinario. Poi stessa cosa per hip thrust. Concludi poi con tricipiti ai cavi, sempre tre serie da 12 ripetizioni. Le pause tra una serie e l'altra possono andare da 1 minuto e 30 a 3 minuti massimo, poi nel tempo imparerai a regolarti a seconda dell'intensità dell'esercizio.